Buongiorno, benvenuti al primo maggio. L'unedì primo maggio oggi si lavora perché si prepara Matrix per domani sera. Direi che la cosa fondamentale oggi sui giornali, le prime 5-6 pagine sono dedicate a tempo perso, nel senso che il tempo perso di lettura, non tempo perso nel senso del rito della democrazia che riguarda le primarie con le quali ha vinto Renzi. 5-6 pagine dei commenti, lo sconfitto, il vincitore, Renzi ce l'ha fatta al 70%, si sarebbero potuto sintetizzare il mio modestissimo avviso in due o tre paginette, così come faremo in questa rassegna di 10 minuti, un minuto e mezzo massimo. La cosa più interessante è che Renzi ha vinto col 70%, era largamente scontato, la seconda cosa, la dice l'Istituto Cattane oggi sul Corriere della Sera, è stato il minimo storico di partecipazione alle primarie del PD. Siamo arrivati a 1,9 milioni di votanti rispetto ai 3,5 milioni di Veltroni, 4,3 milioni di Prodi e alle ultime primarie, quelle del 2013, che avevano circa un milione di persone in più. Quindi in realtà più che un plebiscito per Renzi è stata una riduzione dell'affluenza e in questa riduzione dell'affluenza Renzi ce l'ha fatta. Scusanti ce ne sono tante, il Ponte del 1 maggio, ma l'hanno scelto loro e la disaffezione nei confronti della politica. I renziani e quelli del PD dicono meglio fare le primarie che le cliccarie fatte dal Movimento 5 Stelle o l'autorchia di Berlusconi, tutto giusto, quello che bisognerà vedere poi come i voti delle primarie che sono voti incontrollabili ovviamente si trasferiranno nelle urne. 1 minuto e 40, questi sono i commenti che mi senti fare oggi sulle primarie, per il resto potete separare quelle pagine brillantemente. Interessante il pezzo di Fubini oggi che dice sul Corriere della Sera che 100 miliardi di Euro sono scomparsi dall'Italia perché le banche estere ne hanno tirati fuori, siamo a 683 miliardi di investimenti, il motivo sarebbe il passaggio, il non passaggio del referendum. In realtà questi 100 miliardi sono defluiti negli scorsi 9 mesi, quindi non soltanto al ridosso del 4 dicembre. Il pezzo resta comunque interessante. La cosa che più mi diverte oggi è la celebrazione consueta che si fa il primo maggio, domani i giornali non ci saranno perché i giornalisti e la carta stampata non lavorano, quelli della televisione lavorano con gli stipendi maggiorati e quelli come noi che si occupano di Facebook e di Internet lavorano gratis come sempre. Quindi condividete, se vi piace questa rassegna che è l'unico prezzo che potete pagare, si fa per dire a chi fa questa rassegna. Io celebrerei la festa del lavoro prendendo per i fondelli i sindacati, prendendo per i fondelli i giornali italiani che continuano con le loro retoriche, Pontella della Ginestra. Ma chi se ne fotte? Per carità è stata una storia tragica del sindacalismo italiano, ma raccontate però tra di voi. Sembra il festival del cinema e dei nuovi media di Dogliani, organizzato da Carlo De Benedetti e Mario Calabresi. L'inutilità fatta in persona perché un piccolo circolo di Verduren, sindacalisti e giornalisti si compiacciano e si danno le pacche sulla spalla quanto siamo stati bravi. Quanti siamo stati bravi? Un corno. Oggi sul sole 24 ore leggo che in Italia i net, cioè i giovani che non vogliono cercare lavoro e che ne si educano, sono 2,2 milioni. E questo già lo sapevamo, siamo il paese che ha più net in Europa. Ma nel giorno della festa del lavoro, invece di scrivere pezzi anche a Orioli, ti voglio bene ma il tuo pezzo non l'ho molto ben compreso sul sole 24 ore, è semplicemente un po' complicato, un po' cervellotico. La cosa che oggi si deve scrivere è che noi abbiamo speso 1,5 miliardi con questa minchiata che è garanzia giovani, la cosa più inutile del mondo in cui si compina la pianificazione dello Stato, la pianificazione dell'Unione Europea. 1,5 miliardi di soldi vostri per dare garanzia giovani e in tre anni i net, cioè quelli che non hanno né lavoro e non si vogliono educare, sono passati da 2,4 a 2,2 milioni. 200 mila persone in meno, 1,5 miliardi. Questo è il fallimento di ogni politica assistenziale. Riduceteci le tasse, riduceteci le complicazioni per lavorare, non il garanzia giovani e queste minchiate partorite dai burocrati che nella loro vita non hanno mai lavorato, hanno sempre avuto un posto fisso. Posto fisso che oggi viene considerato dalla Camusso in un'intervista delirante, ci sta perché è la più inesta di tutti, perché dice le cose come le pensa, che rappresentano l'Ottocento. Siamo in una rivoluzione digitale e lei pensa già alla rivoluzione industriale, dice le macchine sostituiranno gli uomini. Pensa ancora come se fosse una contadina del 1750. Il sindacato e il sindacalismo dice la Camusso è viva oggi in un'intervista incredibile sul fatto quotidiano e sapete perché? I voucher lo dimostrano. L'abolizione dei voucher dimostra che il sindacalismo è vivo. No, dimostra che la nostra politica è ancora determinata da CGL, nella scuola e nel lavoro e quindi noi saremo il paese meno produttivo del mondo per questo motivo. La gente non è più rassegnata alla flessibilità. Camusso, sveglia, solo voi sindacalisti e politici non siete rassegnati alla flessibilità perché siete lì da 50 anni. La gente normale purtroppo cambia lavoro ogni sei mesi, ogni anno. Dobbiamo inventarci modi nuovi per guadagnare. Questi sono matti. La gente non è più rassegnata alla flessibilità. La Camusso, i politici, i sindacati non sono più rassegnati alla flessibilità loro. Il pezzo migliore oggi lo fa Carlo Lottieri in cui dice sul giornale che i sindacati festeggiano ciò che hanno ucciso, cioè il lavoro. Bellissimo e concludo così, dopo pochi minuti, oggi il pezzo di Roberto Perotti che è un pezzo straordinario, professore della Bocconi che sa scrivere in italiano, oltre a saper far questo scrive delle cose un pochino più originali rispetto a quelle che ci leggiamo ormai da Lesina e Giavazzi, sul Corriere della Sera e da come si chiama l'altro? No, vabbè, Lesina e Giavazzi. Oggi Perotti su Repubblica scrive un pezzo che dobbiamo leggere. Dice attenzione, io sono a favore dell'Euro, ma non bisogna considerare le ragioni del no Euro ridicolizzandole, pensando che siano solo dei deficienti, prendendoli in giro. Il paper migliore dice quello del mio amico Claudio Borghi, mio personale Claudio Borghi Aquilini, che è consigliere della Toscana della Lega, in cui spiega i motivi per i quali l'uscita dell'Euro potrebbe essere favorevole. Perotti è contrario all'uscita dell'Euro, ma ragiona, ci parla, questo è lo spirito che ci deve essere degli economisti, invece sull'Euro sembra che ci sia la stessa battaglia che sui vaccini, cioè se uno dice no vaccini è un delinquente, se uno dice no Euro non è un delinquente, è uno che ha delle ragioni che possono anche essere sbagliate, sulle quali conviene ragionare. E Perotti, chapeau, il primo maggio su Repubblica ragiona. Insomma, spiega per quale motivo in effetti la produttività potrebbe aumentare con il no Euro, ma spiega anche perché invece la svalutazione potrebbe fare male, cose un po' complicate se volete, ma è lo stile di un economista che mette sempre in discussione le sue convinzioni. Sbagliato, anche qualcuno qua ha segnalato quelli, scusatemi l'allergia a coloro che contro l'Euro ridicolizzano i pro-Euro. Va bene, io vi saluto, non vi auguro nessuna festa perché oggi non è una festa, se potete lavorate, quei pochi che possono lavorare lo devono fare e soprattutto i tanti che sono partite IVA, professionisti, gente che lavora con la flessibilità che ormai viene entrata al DNA, sa perfettamente, sa perfettamente che non esiste nessun primo maggio. Ciao!